Buongiorno buon pranzo a chi va a pranzare e a chi già sta pranzando io pranzo direttamente stasera tra mezz'ora lavoro qui Napoli in questo momento fa caldo tutto a posto Buongiorno Luisa buongiorno Luisa Leo Leo Amiento buongiorno buongiorno che splendido splendente oggi la madre di sole sta in fronte a te Luisa sta in fronte a te il sole Beh Carmelo dimmi tutto Andare Andare tu sei più bella sei più bella sei più forte andare Carissimo oggi è una Saluta Carmelo Ciao Carmelo Ciao Carmelo Ciao chi è? Buonasera la piccolina Chi è Carmelo una bambola Che è la tua sorellina piccolina Ciao bella Come ti chiami? Mi chiamo Alessandra Si chiama Alessandra Alessandra mia bella Alessandra Tutto bene che finisce bene E niente io tra poco Io tra poco Ci voglio vedere Cosa fa vedere? Come è dolce E si è dolce È dolce dolce Eeeh Eeeh Non chiedate che ne piaccia starva non fostare Eeeh Eeeh Che fai? Tutto bene? Si tutto bene Bella Tutto bene Questo è Alberamento Tutto a posto? Verde Speranza Speriamo che tutto Bene Tutto a posto? Bene bravo Tutto a posto Ok Tutto bene E va bene E va bene E Carmelo Quanti anni hai? Eeeh Eeeh Grande Eeeh 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 Comunque La mia riprende l'ho messa pure prima Ogni tanto esce lo scrennamento Vai a vedere il cocco Sì Il cocco vediamo se la posso trovare Però Bravissimo Bravo Bravo Guardi Ma la memoria Eeeh Comunque il cocco qui non ci sta Cocco Cocco bello Penso potremmo scaricare Da Da Play Store App Store Bravissimo Grande Ti meriti Una bella pianta di verde speranza Ciao bella Luisa Ciao bella Luisa Ok va bene Ciao ciao Lo bevi il latte a cocco Diciamo il latte a cocco Diciamo lo bevo Non lo so Non ti so predire se bevono il latte a cocco No Non lo so Penso di sì Penso di sì Il latte a coccamento Ma comunque A coccamento Tutto conviene Ma Tutto bene Che finisce bene Bravissimo Grande Coccamento E la collina fa E il gallo fa Cocco Cocco E' stato bello il video Là che hai fatto dietro la sedia Tutto bene Che finisce bene Che finisce bene Vaglio grande E sono cose Così, spontaneamente, ha rubato una macchina, si non sono apportato, questo è una fotografia mia, va bene il profilo, ha visto la fotografia mia, hai capito che ha fatto questo? Tu li vedi i commenti? Si, hai una fotografia mia? Seria? Hai capito, hai visto? Si ce l'abbiamo fatto, si vede che ho un profilo facile, voi sapete che io sono uno Carmene, lo puoi anche bloccare se vuoi, no a me me lo fotte, questo si chiama Ghiocciola Briccov, certamente non sono io, tu come mi conosci a me? Briccov? No, tu a me come mi conosci a me, tu a me come mi conosci? Io da te? Eh, da Periscope come mi conosci a me? Io l'ho conosciuto da Periscope. Eh, e come mi chiamo uno? Uno Carmelo. E quindi sono che originale, quindi quella è una falsa, ti trovi il fatto o no? Si, uno Carmelo su. Uno Carmelo? Esatto. Uno Carmelo su Periscope, Carmelo Grazioni su YouTube e Carmelo.Grazioni su Instagram. Grande. Grandissimo. Allora adesso stacco perché sono arrivato al posto, io ci andiamo al più presto possibile, ti auguro buon pranzo, si va a pranzare. Grazie, anche a te avete mangiato? Eh, direttamente stasera. Ah no? Eh si, purtroppo è un po' difficile mangiare, purtroppo. A parte fatto, già sono le 13.30, quindi è un po' difficile. il tempo che mi preparo e non ce la faccio nemmeno mangiare, sinceramente proprio. Questa era la mente? Eh la mente si, la mente ci sta, però da 30 minuti, cioè è poco, perché comunque il tempo che mi preparo è il tempo che si fa invece. Puoi ingrigerire le cose? Eh, fin da l'ultimo mangiare le cose. Perché se devo mangiare presto, ma a parte fatto è impossibile, perché comunque non è possibile. Se venivo qua verso l'una e meno un quarto, massimo all'una, allora potevo comodamente mangiare un qualcosa, ma invece ora troppo è tardi. Noi abbiamo la mensa e questa è la mensa, vedi? Guardi, questa è una mensa, però è alle spalle, sto alle spalle comunque, quindi la mensa ci sta, però solamente che non è possibile. Vabbè, io ti abbraccio e alla prossima, un bacione. Ciao Carmela, ci vediamo, buon proseguimento. Ciao Carmela. Ciao bella, ciao bella. Ciao. Ciao comunque.